L'altra Puglia, quella lontana dal mare e dai trulli, quella dove assaggiare sapori ancora autentici di una cucina povera ma variegata, non addomesticata ai voleri di turisti. E Altamura è la giusta porta d'ingresso per esplorare il territorio dell'Alta Murgia, l'altra Puglia appunto. D'obbligo come prima cosa assaggiare il pane di Altamura di OP, fatto con semola rimacinata di grano duro. Viene usato, raffermo, in preparazioni contadine come le cialedde con l'aggiunta di pomodori, aglio, cime di rapa, patate, uova e olive o come il pancotto facendo bollire il pane con le verdure per poi spolverarlo con pecorino murgiano. Sebbene sia meno nota del pane, anche la lenticchia di Altamura IGP è una tipicità unica e tutelata. Altra coltivazione molto diffusa in zona è il lampascione, che con il suo sapore amaro ben si abbina agli arrosti. Le carni qui sono una specialità, in particolare quelle ovine, spesso accompagnate dai funghi delle murge, tra cui il cardoncello. Due piatti della tradizione sono ormai quasi una rarità, ma meritano di essere cercati. U couturid, un lesso di agnello, e la pecora alla rezzaule, cotta lentamente in anfore di terracotta. Dalla pecora poi si ottiene uno dei formaggi più interessanti della Puglia, il canestrato DOP, mentre è a base di latte vaccino il pallone di gravina. Non mancano gli insaccati, come la soppressata, la pinzintella e gli zampitti, salsicce al peperoncino tipici di Gioia del Colle. E la pasta ha un ruolo da protagonista. Oltre alle immancabili orecchiette diffuse in tutta la Puglia, a gravina si gustano le tradizionali tagliatelle col vincotto. Anche i vini della zona sono interessanti scoperte. Le doc da degustare sono Gioia del Colle e Gravina, mentre ad Altamura si assaggia il liquore Padre Peppe, a base di noci acerbe, messe a macerare nell'alcol con spezie ed aromi, tra cui il caffè.